buona prima ragazzi siamo tornati in questo nuovissimo video e oggi siamo qui ragazzi perché è un giorno speciale perché uscito ronaldo if a caso non si sa perché uscito io c'ho un sacco di garantiti che andiamo ad aprire più altri pacchetti vedremo un po che cosa troveremo quindi vedrete un po di migliori pacchetti pic pacchetti pacchetti pic vi invito come al solito a passare a star select se volete comprare fifa points ci sono gli linens ancora nei pacchetti col cubano lozzano per magliette da calcio un fogaccio col coupon giustiz mi raccomando andiamo via sono le 19 sono le 19 sono le 19 sono le 19 niente pacchetti come niente pacchetti ok pacchetti ok sette pacchetti da 100.000 crediti non ho capito ok 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 qualche icona interessante uscita gullit 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 no mare camsic oh shit che endo vanira di mare camsic endo vanira di mare camsic no way oddio che carta e questa la facciamo subito cioè subito se c'è giocatori volentieri che pacchetti mi da questa sfida pacchetto giocatori rari è un mega pacchetto raro una bomba però devo spacchetta prima i promo ragazzi perché altrimenti non abbiamo i giocatori per farla primo 100.000 crediti attenzione tv play walk out walk out un man of the match sillesen oh mio dio 20 ne ho trovati di queste 20 sillesen 20 sillesen ho trovato zio cancaro visca il bar sa ok va bene dai due walk out ci posso ok vabbè più o meno più più o meno dai più più o meno più o meno più o meno più o meno che più però back to back è oro normale ok lo usiamo per amsic varan non lo usiamo per amsic ma ce lo vendiamo perché varan due spicci due spicci se la memoria non mi inganna 120k li vale i will take it i will take it mamma mia vicino all'altro difensore più forte del mondo 120k ma datore back to back tre volte back to back simpatico è ancora oro normale ok italia att ciro ciro cazzo si ciro si ciro si questo lo usiamo per amsic è buono come il pane ci ruzzo scesni pure buono belle sfide zero doppioni uh non uscire dal negozio se no si interrompe la magia quadruplo back to back oddio quadruplo back to back e if oddio portocallo no cacaua di merda porco zio cacaua di merda vabbè vabbè quasi ronaldo quasi ronaldo quasi ronaldo ragazzi oddio magari c'è messi vicino oh 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 sarà troppa oh non uscire dal negozio non farlo non fare questo errore quintuplo back to back oddio quintuplo back to back no ancora oro ma non mi da l'headliner what the fuck bro oddio yori buono già ce l'ho credo al club già dovrei averlo quintuplo back to back cosa? però neanche un headliner fuck uff vabbè oh buono buono va bene va bene va bene va bene dai gli 83 ce li teniamo questo è di scarto sestuplo back to back è impossibile è impossibile sestuplo back to back eh ok è finita la magia ragazzi devi aprirlo con i coins senza uscire perché così non si interrompe la magia walk out ancora oddio ti prego carta nuova carta nuova carta nuova dai dai ziec ti prego ziec ti posso pregare ziec ti prego ziec ti prego ziec non puoi ziec non puoi ora abbiamo nel negozio tanti pacchetti molto simpatici molto molto simpatici dalle varie sfide che abbiamo fatto e icone e questo pacchetto è regalato da l'iei per l'accesso al coso e poi ci abbiamo tutti gli if garantiti da aprire dita incrociata ragazzi sta da sti 20 quanti so 24 25 pacchetti vorrei trovare almeno uno tra agguero culibali e ronaldo e almeno una carta e headliner che non sia ziec per l'amor di dio quindi iniziamo giocatori oro non mi aspetto nulla da questo lavagna no non lo so se questi fanno la luce diversa non è lavagna rip giocatore oro premium lavagna ci piace quando mi è la lavagna giocatore oro premium mi parte un po' il sentimento un sentimento savage ok poi pacchetto mega pacchetto mega da tutti sottovalutato lavagna va bene va bene la lavagna ci posso stare se mi dai van dyke fabbigno porco mai fabbigno avrò trovato una morta fabbigno io mai mai nella mia vita rientra nel negozio zinco rari io credo in te zinco rari zinco rari da tutti sottovalutato manco lavagna infatti fa schifo giocatore oro prime iniziamo a salire con i pacchetti interessanti piano piano non è walk out piano piano buono buono non è if non è carta speciale è di portoghese che stasettimana se mi dici portoghese mi parte esci dal negozio rientra nel negozio mega pacchetto raro poso il controller non è walk out bomba non è if manco 10k dell'if uno dice ok miguitari 50.000 qui già iniziamo un pochettino non è walk out una bomba prima ho trovato 6 walk out su 7 e qua manco uno vabbè che i pacchetti Zlatan Ibrahimovic il caccio 9 ha deciso di sopra sede della cessione Marekamsik ai cinesi per chiamare di pagamento della cifra non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti non ho capito Amsik rimane è mo' la sfida allora 17 if garantiti 3 qua 1 1 1 1 1 1 1 fino ad arrivare a 17 più il pacchetto ultimate regalato dall'ESports in the game apriamo prima il pacchetto numero 7 4 5 6 7 il primo deve essere il numero 7 perché c'è CR7 primo pacchetto if garantiti attenzione attenzione walk out walk out al primo walk out al primo che cazzo è ah visca ok visca ok 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 visca ok 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 visca 3 4 5 6 7 8 9 pacchetto if garantito numero 9 back to back back to back oddio oddio e brividi portocallo 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 ancora questo dai visca di merda dai ma già inizia a prendermi per il culo sto gioco eh già non mi sta a piacere che mi prendi per il culo così per favore pacchetto numero 4 shh con calma lo devi aprire con calma con molta delicatezza lo devi aprire walk out con delicatezza con delicatezza portocallo fabregas oh fabregas bono bono quanto costo non credo valga qualcosa fabregas pacchetto numero 6 se è walk out lo schifo oddio 4 5 e 6 se esce walk out lo schifo cioè tipo il mio cuore io non guardo raga non guardo tra 5 secondi alzo gli occhi 5 4 3 2 1 boom questo mesce pure nei 3 if questo mesce pure nei 3 if ragazzi questo mesce guarda che se mesce apriamo di nuovo il 7 4 5 6 e 7 questo mesce di nuovo pure nei 3 if guarda eh un altro work out finora tutti i work out ti prego bono me lo devi da argentina kagawa fuck off avrò il numero 10 perchè messi mi porterà ronaldo questo è il numero di messi messi mi porta ronaldo walk out ancora holy shit ti prego portogallo portogallo che cazzo finbo gazon oh mio dio ancora walk out holy shit orban oh ma mi è stato a tutti questi oh porco io se walk out non lo guardo mi copro se walk out mi copro walk out ancora holy fucking shit argentina argentina o portogallo ti prego dai chi altro c'è stato higuain si higuain quelli bali pure 3 2 1 boom ti prego ok il primo non walk out è arrivato il primo non walk out dopo non so quanti pacchetti è arrivato td spagnolo 3 4 5 vai ok l'ha finiti me l'ha dati tutti di seguito e l'ha finiti ma cosa ma cosa dici dai 2 pacchetti l'ultimo walk out mi ce devi far crede mi ce devi far crede negli ultimi 2 mi ce devi far crede walk out ti prego ti prego ti prego ti prego portogallo 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 finbo caso porco ti dinci finbo caso basta ultimo ultimo if garantito walk out walk out io non guardo non può essere di nuovo visca cioè è matematicamente impossibile che sia di nuovo visca e le probabilità che sia di nuovo visca sono le stesse che sia cristiano ronaldo boom chill well ok almeno è diverso pacchetto ultimate regalato dagli esports se ce devi far regalo ce lo devi far fatto bene come era come era da programma non ci stanno sorprese non ci stanno sorprese portiere regà allora se esce il workout cosa che non penso succederà io me ne vado io prendo e me ne vado tre if please yay bella ti prego yay una volta nella vita tua vai brunt porca puttana brunt vabbè vabbè o meglio di visca sicuro tanto visca ci sta nel pacco sicuro deve uscire per forza visca ragazzi è scritto oh vabbè 384 ci posso pure stare questo quanto vale vabbè dai non è un brutto pacchetto da tre if sinceramente vabbè ma questo costa così poco perché tutti hanno aperto i pacchetti if però questo qua oh 46k chill well what le icon non lo so se si possono se si possono trovare questi pick sai non ne ho idea non credo non credo però non ne ho la certezza altro pick mazza vedi che se ne fai 10 regà non esce niente se ne fai 5 bomba se ne fai 10 o più non esce nulla guarda sterling vabbè però non esce neanche un walkout se ne fai 10 devi fare 5 non mi posso lamentare ma di certo non era quello la cosa che volevo nella mia vita 5 picks let's go primo pick holy shit oh my god bono per l'SB si ma è bono porco zio non mi non esulto più di tanto perchè alla fine è bono per l'SBC cioè non è che però 91 di overall certo mi avessi dato una carta 91 di overall futur è una futur star lì come cazzo headliner tutte queste carte non ce sto a capi in cazzo la madonna il picco della vita questo è stato il picco della vita porco zio ma che è un pacchetto da 125 oppure sono 5 pick marci ho trovato più roba qua che nel pacchetto da 125 mila ma che bordi sta cosa questi saranno dei brutti pick ragazzi concludiamo male probabilmente concludiamo male con dobbià il pick della morte orco zio orco zio orca 2 orco zio ho detto è la carta speciale invece era fargstaff però prendiamo per tonger che è buono per l'SBC per l'SBC Grazie a tutti.